www.quattrozampe.it anche su Facebook, Instagram e Twitter. Tesori a quattro zampe, da voce agli animali. Radio Mondo 99.9 Best Music A tu per tu Per parlare di attualità, politica, curiosità e sport. A tu per tu Per saperne di più Martedì 18 luglio, nuovo appuntamento con A tu per tu su Radio Mondo e Rieti in vetrina. Oggi parliamo delle residenze artistiche e dei vari spettacoli che Antro Doco ha accolto negli ultimi due mesi. Lo facciamo con l'attrice Margot Paciotti. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Residenza artistica che ha ricevuto dalla prima call che è stata aperta agli inizi di giugno Più di 300 compagnie. Il Aria, il festival, quindi che poi ha caratterizzato Antro Doco appunto nel mese di luglio, è terminato. Iniziamo da te raccontando un po' come ha iniziato il tuo percorso artistico, perché ti piace fare l'attrice e come hai iniziato, tutti i tuoi studi, che poi chi ha letto l'articolo su Rieti in vetrina già avrà spulciato qualcosa ma è bene ribadirlo e poi entriamo nel vivo parlando appunto di Aria. Io sono appunto Margot Paciotti, sono attrice e regista e ho fondato nel 2005 con Lorenzo Pasquali la compagnia Onda d'Urto Teatro e Onda d'Urto Teatro appunto è la compagnia che ha la direzione artistica della parte performativa del progetto Aria. Nasco come attrice e poi mi sono specializzata in regia, lavoriamo in tutta Europa e non solo, quindi abbiamo portato i nostri spettacoli da New York a Città del Messico, in Russia, a San Pietroburgo, quindi siamo una compagnia internazionale che utilizza un linguaggio anche internazionale. E ad Antrodoco e insieme al Comune abbiamo creato questo spazio Aria, che è un progetto di... il nome è un acronimo ovviamente di residenza artistica ma in realtà è un po' più ampio il contenitore perché Aria non è solo residenza ma è anche, come hai già detto tu, festival, sia di arti performative che di musica. Già Aria è il nome, ha il senso un po' di libertà. Eh sì, abbiamo trovato sì, una sigla che potesse anche dare un po' il senso di quello che è il nostro spirito, di libertà ma anche di rinnovamento, l'importanza della natura anche in questo territorio, insomma è molto ampio. Poi, come hai detto tu, le compagnie hanno risposto immediatamente inviando tantissime proposte, sia di spettacoli che di residenze. La cosa molto bella che stiamo facendo è coinvolgere il territorio anche nella selezione degli spettacoli. Quindi abbiamo creato una community ad Antrodogo, insomma non solo lì nel territorio, dove le persone si iscrivono tramite mail, che è la mail di Aria Progetto Cultura, e lì possono visionare tutte le proposte e insieme alla direzione artistica fare creare il palincesto, quindi è anche una programmazione partecipata con il territorio. Per chi non avesse avuto l'occasione di partecipare, che tipo di spettacoli avete proposto e poi è già pensabile replicare il prossimo anno? No, no, sì. Allora, sì, partiamo da quello che è stato. Aria Performing Art Festival è finito domenica, quattro giorni di spettacoli, sia nel pomeriggio che la sera. Ingresso gratuito. Ingresso assolutamente gratuito, perché questa è un'altra nostra peculiarità, sì, e politica. Ci interessa accogliere la maggior parte del pubblico, anche chi di solito non è abituato e quindi non pagherebbe un biglietto per andare a vedere uno spettacolo, ma per invogliare anche a conoscere cose nuove e per un po' stuzzicare la curiosità nelle persone. Sono stati quattro giorni di spettacoli. Noi organizziamo un festival che si incentra sulla danza, il Nuovo Circo e il teatro. Quindi ci sono alternati spettacoli di Nuovo Circo, danza contemporanea e teatrali. Per Nuovo Circo cosa si intende? Per Nuovo Circo si intendono delle discipline che ovviamente non utilizzano più gli animali, dove l'elemento teatrale entra molto, cioè non c'è solo il numero, un po' come il circo tradizionale, che siamo abituati anche a conoscere. Lo show, no? Ma c'è una storia nello spettacolo, c'è una drammaturgia, attraverso questa drammaturgia si sviluppano anche i numeri. La fatica nel coagulare poi 300 compagnie, perché poi è vero, si fa una selezione, però visionarle tutte, scegliere gli spettacoli, confrontarsi, insomma… È un lavoro, è tempo, che noi ovviamente siamo ben disposti a spendere, perché è quello che ci piace fare. Molte non ne avevamo… cioè quello erano le giornate, quello era anche il budget, perché noi per ogni festa abbiamo un budget da progetto, però con altre compagnie siamo rimasti comunque in contatto per i prossimi appuntamenti. Per il momento Aria Performing Art Festival durerà fino al 2026 da progetto, e poi vedremo. Dopo Aria c'è anche un altro appuntamento che riguarda l'arte? Sì, appunto Aria non è solo arti performative, ma è anche residenze per artisti e festival di musica. Il festival della musica vi invitiamo tutti e tutte ovviamente a partecipare ad Antrotogo, il festival si terrà dal 17 al 20 agosto, quindi quattro giornate di eventi musicali per Antrotogo, e sicuramente vi raccomandiamo di andare anche sulle pagine di Aria Progetto Cultura… Sì, Facebook e Instagram, che c'è anche un sito web, e quindi lì potete vedere tutto il programma e capire cosa vi può più interessare. E come si dirama il festival nei quattro giorni? Cosa proporrete? Allora, come in quello delle arti performative c'è stata una call, a cui hanno partecipato i vari gruppi musicali, i vari artisti, e ci saranno più appuntamenti durante la giornata, quindi più concerti, e non solo, ci sono anche laboratori, quindi incontri con il pubblico, dove il pubblico partecipa anche informativa all'evento. Ora il programma ancora non è stato pubblicato, quindi non sono io che andrò a spoilerare i gruppi. A presto, sia sulla pagina Instagram e Facebook che sul sito, troverete tutti gli artisti, tutti i concerti e il programma. Quindi tra circa un mese inizierà il festival. Tra circa un mese inizierà il festival. E nel frattempo dobbiamo selezionare le compagnie, perché a settembre partono le residenze. Com'è una residenza artistica? Allora, la residenza artistica sia per il territorio, che per l'artista è la cosa più interessante. Perché? Perché l'artista o la compagnia viene ad antrodoco e sta per un periodo che dipende sia dal progetto che dal budget, ma minimo dieci giorni sul territorio, lavorando nel teatro o negli spazi dedicati, per ricercare o creare o finalizzare un progetto artistico. Durante queste giornate ci sono anche delle aperture col territorio. Quindi c'è un confronto sia con le nuove generazioni, quindi con le scuole del territorio, che con gli abitanti del territorio. Quindi c'è un'apertura al pubblico, dove il pubblico può visionare e vedere a che punto sta il lavoro di ricerca di questi artisti e compagnie. E possono dare anche dei feedback, quindi dei riscontri su quello che hanno visto, dei consigli. È un momento molto bello. Perché la scelta è ricaduta proprio su Antrodoco? La scelta è ricaduta su Antrodoco perché Onda Turto Teatro lavora in questo territorio da circa il 2013, quindi sono una diecena d'anni che stiamo sul territorio, con vari progetti. Progetti sulle nuove generazioni, quindi lavorando anche nelle scuole del territorio. Lavoriamo facendo corsi di formazione teatrale nelle scuole elementari e medie. Magari si può scoprire anche l'attitudine di qualche piccolo futuro attore. La cosa molto bella è che poi questi ragazzi e ragazze molto giovani si interessano e poi partecipano in modo molto attivo anche alla vita dei festival. Vengono, sono curiosi, seguono le compagnie. E poi lavorando nelle scuole anche molti ragazzi e ragazze che non avrebbero mai pensato di far arte, di far teatro, scoprono delle attitudini, dei talenti loro stessi, loro stesse, e si interessano a una cosa che poi chissà non è detto, però è un interesse in più che è comunque stimolante. Che linguaggio è quello dell'arte? Sia dalla danza, dal cinema, qualsiasi cosa? Allora, soprattutto slego un secondo il cinema, perché anche se è un'arte nobile, ovviamente che ha cambiato il modo di fare arte, no? Da quando è nato. Però le arti performative live, quindi dal vivo. Quindi il teatro? Il teatro, la musica, la danza, insomma, il live. È tutt'altra cosa? È tutt'altra cosa perché c'è un contatto molto, molto diretto con il pubblico, è un confronto diretto col pubblico, succede tutto lì, è un rapporto d'amore col pubblico, quindi ci può essere un innamoramento, ci può essere un distacco, un odio. Però è giusto che sia così. Io infatti al pubblico spesso dico non dovete per forza applaudire, se non vi piace, la cosa a cui noi teniamo e che facciamo anche teatro all'aperto, penere, come si dice, è che il pubblico può tranquillamente, non pagando anche il biglietto, prendere e andarsene. Prendere e andarsene, se non piace lo spettacolo è giusto che sia così, siamo abituati invece a non restare obbligati sulle poltrone e applaudire annoiati spesso a degli spettacoli, invece per noi è importantissima la scelta libera del pubblico. Viaggiare tanto città grandi, città piccole, paesi, frazioni, poi hai di nuovo metropoli, come ci si abitua? È chiaro, la professionalità è sempre la stessa, però poi i contesti cambiano, si modificano. I contesti cambiano, i pubblici cambiano e anche le umanità cambiano. E i gusti. E i gusti. Allora, su quello noi facciamo un lavoro molto duro, nel senso che noi cerchiamo sempre di... Poi secondo me la bellezza è un po'... non è soggettiva. Nel senso che qualcosa di bello è bello e in qualche modo viene sempre riscontrato, in qualche modo. Io non parlo della bellezza estetica, fisica, o parlo della bellezza anche nella natura, che fa stare bene. Nell'architettura. Quello che poi... Quel sentimento che poi non riusciamo troppo a distinguere, ma che ci dà un senso di benessere, secondo me, nasce da uno studio sul linguaggio performativo. A tutti quasi... Quello che facciamo noi spesso è abbastanza universale il linguaggio che utilizziamo, quindi viene fruito sempre in qualsiasi paese siamo stati, dalla Corea agli Stati Uniti. Ovviamente ci sono reazioni differenti anche in punti diversi dello spettacolo, perché le culture sono spesso differenti e i linguaggi sono differenti. Anche i linguaggi del corpo ci siamo accorti che sono differenti. Mentre noi in Italia abbiamo un linguaggio molto... in alcuni contesti, in alcuni paesi, quindi anche quello è interessante da conoscere. E anche affinare il linguaggio e l'azione performativa rispetto al paese dove ci si trova fa parte un po' del mestiere. Stavo ripensando ad Aria. Sì. Un evento che poi va a valorizzare anche il territorio, come hai detto tu. L'antrodogo già è bella di per sé, poi se ci mettiamo l'arte secondo me assuma ancora un livello superiore. E poi quest'anno c'è stata una grande risposta del pubblico, anche non del territorio. Quindi anche da fuori. E' quello che vorremmo fare per Antrodogo. Ha portato del bene, esattamente. Creare un turismo d'altro tipo dove le persone possano arrivare ad Antrodogo, mangiare bene, stare su questo bellissimo territorio tra le montagne, fare un'escursione per i sentieri del CAI e poi la sera suffrire di servizi culturali, quali mostre, perché Aria ha anche polo museale, mi sono dimenticata. Ah, ecco. Mostre, spettacoli, concerti, un po' come è stata la tendenza di alcuni piccoli comuni italiani, comuni che durante la parte dell'anno non succede nulla, ma ci sono invece momenti, appuntamenti durante l'anno, dove si riempie anche di persone non per forza del territorio e poi questo comune viene conosciuto e assume una valenza, una specificità importante. Ricordiamo ancora una volta per chi volesse partecipare al Festival della Musica, come può farlo? Allora, chi può farlo? Può farlo dal 17 al 20, vi aspettiamo agosto ad Antrodoco, potete informarvi sul palinsesso, sul programma del Festival attraverso i social, quindi le pagine Instagram e Facebook di Aria, Progetto Cultura, quindi se scrivete Aria, Progetto Cultura, trovate sia la pagina Instagram che Facebook e anche, se non avete Instagram o Facebook, potete andare sul sito che è Aria, Progetto Cultura e quindi informarvi sul programma. Prima di salutarci, con una curiosità, gli ultimi due minuti, la differenza tra fare l'attrice e la regista? È un mondo completamente diverso. È quello che preferisci poi. Allora, a me piace, ho fatto per 15 anni regia, ho iniziato come attrice e ora sono tornata a fare l'attrice, sia teatrale che cinematografica. fare l'attrice è più come stare sulle montagne russe, è divertente. Fare la regista invece è un po' come giocare con i Lego, è sempre divertente. Richiede più pazienza. Richiede molta più pazienza e ingegno e responsabilità per non far crollare poi la struttura che stai costruendo, quindi c'è una responsabilità anche umana delle persone che in quel momento si stanno dirigendo o gestendo. Si rivolgono tutti a te che sei regista. Quindi c'è una responsabilità invece facendo l'attrice sei completamente libera e non devi rendere conto a nessuno. Non è sbagliata come cosa. Ringraziamo Margot Paciotti di essere stata con noi. Grazie a voi. Di averci presentato Aria, quindi Residenza Artistica, il festival che si è terminato ad Antrodoco e di aver presentato senza spoilerare i vari spettacoli anche il Festival della Musica che si terrà d'agosto sempre ad Antrodoco. Con lei ci riaggiorneremo prossimamente appunto per l'appuntamento estivo. Sì. Ringraziamo chi ci ha seguito su Radiomondo e Riti in Vetrina. Questa puntata come sempre la potete ritrovare su YouTube di Riti in Vetrina e Radiomondo e sulle nostre pagine social. L'appuntamento e alle prossime interviste di A Tu Per Tu. Grazie. A Tu Per Tu Per parlare di attualità, politica, curiosità e sport. A Tu Per Tu Per saperne di più.